Claudio Villa Deve dire qualcosa? Deve dire Mi ricorda lettere Le ricorda? Mi ricorda delle lettere Delle lettere? Sì Delle lettere scritte da qualcuno a qualcuno? Scritte dai fans di Claudio Villa a lui Vedremo Siamo rimasti impressi Grazie Rotocalco Rotocalco Flirt Mi scusi? Mi ricorda il flirt Parlano solo di flirt in rotocalco Grazie Marijuana Sigaretta Grazie Tre domande Tre risposte Firmate da un nome della musica leggera Ve lo presentiamo immediatamente Mia Martini Serata quindi dedicata ai giovani Ai giovanissimi Perché suppongo signorina Lei abbia la sensazione di trovarsi di fronte A un antico romano Questa sera Parlo di me Il professore è assai più giovane O comunque a due persone così Che appartengono a un altro pianeta Un'altra sfera Un'altro Evo geologico Ma per addolcire appunto Questa sensazione Da senato Che non volevamo fosse così Preminente Abbiamo chiesto ausilio A una giovane Gentile collega La signorina Fornaciarini Ciao mia Ecco Ciao mia Vedi come è molto più disinvolto Il rapporto di Radio Gioventù Qui da Lugano Ciao mia Noi non riusciremo Almeno io personalmente Non riuscirei mai A dire ciao mia Lei trova che sia male Signorina mia? Mi mette molto in imbarazzo Dare di lei Qualcuno Vuol darmi del tu? Ma se lei permette Ma anzi Io gliene sono grato Dovrà soltanto concedermi Di continuare a darle del lei Perché io mi troverei in imbarazzo Per gli stessi identici motivi Dando del tu a lei Poi magari Allora cediamo del lei No 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 Io non posso dare del tu a una persona Che mi dà del lei Davvero? Sì mi rimane difficilissimo Ma no La prego La prego Mi dia realmente del tu Dunque Incominciamo allora A parlare così Delle sue origini Canta Da quanto deve concedere A degli antichi romani Queste curiosità Ecco Da quanto tempo? Canto da Da 14 anni E da 14 anni? Da quando aveva 14 anni? Ma io adesso ho 27 anni Quindi Ah da quando aveva 13 anni? 13 anni Sì Ecco E incominciò a cantare In quale occasione Signorina mia? Sono andata a Milano Un treno E ho cercato Così Di avere un provino Da una casa discografica Veniva a questo treno Da dove? Da Ancona Da Ancona Lei non è però marchigiana No io sono calabrese Di dove? Di Bagnara Calabrese Ah bellissimo paese Il mare viola da quelle parti E dicono che Bagnara Sì anche E quindi la donna assume Come spesso capita In alcuni paesi del sud Il ruolo Di capofamiglia Purtroppo Spesse volte Insieme al mulo O al muletto No? Senta Mi pare che Le sue canzoni A proposito Del ruolo Della donna Abbiano sempre come tema Quello della donna Non sospirosa Che dice Amore mio Perché te ne sei andato E via dicendo Ma della donna Che tutto sommato Che sta partita A carte Con l'uomo La vede vincitrice O sbaglio? Ma non è sempre importante Essere Vincitrice In amore È bello vincere È bello perdere Ma è bello lottare Comunque sentirsi vivi Essere un po' Alla pari Perché ha risposto A un certo momento Mi ripromettevo Di ritornare Sull'argomento A Claudio Villa Mi pare abbia risposto Lette Perché l'ho conosciuto In un'occasione Così di una tournée Che abbiamo fatto insieme E mi ha parlato Moltissimo Di tante cose Ma la cosa Che mi è rimasta più impressa Sono state appunto Queste lettere Che lui dice Di conservare Di tutti i suoi fans Che gli scrivono Da anni e anni Per cui lui Ha questi bauli Pieni di lettere Di ammiratori Che magari Sono cresciuti Si sono sposati Sono diventati I nonni E quindi C'ha degli archivi Personali Lei crede In queste lettere In questo contatto Epistolare Con il pubblico E scusi signorina Se la interrompo Cioè in sostanza È cambiato qualche cosa Nel modo di considerare Gli ammiratori Tra il periodo Ecco lei lo ha citato Di Claudio Villa E il suo Sì È cambiato il pubblico E sono cambiati Anche gli artisti Cioè io credo Che oggi Non esista più Il divismo Cioè io Per esempio Ricevo Non molte lettere Abbastanza poche Ah finalmente Una persona sincera E mi chiedono Quasi tutti Fotografia Autografia Cioè poi alle volte Scopro anche delle lettere Scritte in ciclostile Non so Anche ad altri cantanti Eccetera Per cui non c'è più Quella Sì Ma lei Non ha il sospetto Signorina Che in fondo Sia sempre stato così Perché io Purtroppo Ho parecchi anni E così Insomma Sono del periodo Pliocenico Con Claudio Villa Ma io credo Che molti abbiano mentito Spudoratamente Cioè io ricevo Dicevano Tonnellate di lettere La nostra redazione Invasa da lettere Non credo Che il pubblico Usi veramente Affollare di lettere Forse non pensa Che alle volte I personaggi Caricavano Il posto A ricevute Ma io credo Sì Effettivamente Un po' di esagerazione Ci deve essere Però una volta Forse Forse gli ammiratori Scrivevano Molto più spesso Ai loro idoli Sì Molto più spesso Di oggi Invece lei riceve Pochissime lettere E il tipo di rapporto Che cerca di stabilire Col pubblico Se non è divistico Che carattere Pensa che lei abbia Non mi piace molto Rispondere alle lettere Perché è una manifestazione Di divismo Che non Non condivido troppo Sì Però mi piace Stabilire un rapporto Così attraverso i miei dischi O attraverso interviste Ma soprattutto Attraverso i miei dischi Che in fondo per me Sono una cosa più importante Certo Come reagisci alla richiesta Di un autografo Con imbarazzo Con Sì Mi imbarazza molto Infatti non giro mai Con le fotografie Nella borsa Mi capita Che me le chiedono Per strada così E non le do quasi mai Ecco Queste icone private Queste Sì Ecco Non crede in questo tipo Di rituale Cioè Ecco Ti l'immaginetta No Signorina Fornaciarini Beh Dunque mia Dice che non crede Al divismo Perfettamente d'accordo Però il tuo disco È nato in un periodo Il tuo primo disco Oltre la collina È nato in un periodo Di contestazione E in fondo C'erano tutti gli ingredienti In questo disco Che potevano sfondare Non so C'erano argomenti Di saccaranti Tipo il padre Tipo la ribellione Tipicamente adolescenziale Tipo l'amore attivo In una canzone Hai parlato anche del suicidio Sì Fino a che punto Tu sei stata cosciente Che questo poteva essere La strada del successo Oppure Hai affrontato quei testi Perché veramente Ci credevi Perché ti interessavano Perché ti identificavi In quei testi Io non ho mai creduto Che questo disco Avrebbe avuto successo Cioè Ho voluto fare Questo disco Anzitutto Ho voluto Così un po' Credo che sia un po' L'ambizione di tutti Fare una specie Di autobiografia Specialmente Quando mi si dava La possibilità Per la prima volta Di registrare Un long play In tutto mio Cioè Un album Un'opera Con 12 canzoni Che è una cosa Completamente diversa Dal 45 Per cui ho voluto fare Un po' La storia della mia vita Ma erano cose Molto difficili E non ho mai creduto Che avrebbe avuto successo Infatti È stato un disco Che ha venduto pochissimo Ma perché in quei dischi Per esempio Tu hai scritto i testi Poi nei seguenti Non hai più scritto niente Cioè mi ricordo Prigioniero Nel rosa Sì perché Allora incominciavo E non avevo Non avevo impegni Non avevo serate Non avevo televisione Anzi ero censuratissima Sia dalla televisione Che dalla radio Perché? Perché i miei testi Erano un po' Erano un po' violenti E di che parlavano? Beh Si parlava dell'amore Così Si parlava di sesso Si parlava di Della famiglia Di mio padre Delle mie crisi religiose Cioè tanti argomenti Che Violenti In che senso allora? Beh Violenti Il padre davvero Era una canzone molto violenta Cioè la storia Di questa ragazza Che si trovava nei guai E il padre Che non Non si era mai fatto vivo Prima con lei E è uscito fuori Da In questa storia Dicendo Tu in fondo Hai diffamato il mio nome Hai rinnegato Tutto quello Che io ti avevo dato E lei Si ribella al padre Dice Tu non mi hai mai dato niente Perché non sapevo neanche Che io esistessi Ma questo è un po' autobiografico? No No Assolutamente Cioè tra me e mio padre Esiste un'amicizia E cioè i nostri rapporti Sono molto belli Però Cioè un po' Ho sentito questa storia Però forse perché ho risentito Della separazione Dei miei genitori Mi sono separati Quando io ero molto giovane Per cui ho creduto Cioè ho creduto di poter Identificarmi un po' In questa canzone Beh mi pare Un tema molto interessante Tutt'altro che censurabile Cioè un tema vivo Sì ma era spiegato In termini abbastanza vivi C'era anche una parola Nel testo Che non andava bene alla RAI Per cui non Si può dire questa parola? Amante Ah Ho capito Ma molto interessante Molto interessante Ho capito Va bene E continuiamo E invece Cioè bisognava cambiare Il testo di questa canzone Io ne mi sono rifiutata Cioè c'era una frase Che diceva Sarebbe grande sentire Il parere della tua amante E c'era un'altra frase Bellissima per me Che diceva appunto Mi ricordo quando Con mia madre Quando con mia madre Dormivi nel fieno In aprile E lei Era di me Era piena Cioè lei Aspettava a me Mi piaceva questa frase Di me era piena Era piena di poesia Molto bella E invece la RAI Voleva che io dicessi La luna era piena Per cui mi sembrava una cosa Non c'entrava più niente Si rilassi Adesso secondo lei Avrebbe Ancora censurato Ci sarebbero state queste censure O c'è cambiato qualcosa Ma forse qualcosa è cambiato Perché ho sentito Dei dischi di Non so di De Andrè Anche di Battisti Con delle parole Che allora Quattro anni fa Erano considerate terribili Per la RAI E anche altri miei testi Abbastanza così violenti Sono passati In questi ultimi anni Per cui credo che Forse qualcosa sia cambiato Lei usa la parola violenta Per dire così Audace Audace Sì Cioè più reale Più reale Meno sconfortevole Meno mieloso Meno mieloso Sì Senta lei scusi Una domanda soltanto Volevo farla in questo senso Lei è un'aria leggermente ironica Si sente di essere ironica Verso le persone Il mondo E qualche cosa No E allora è un'aria Che non le Non le risulta di avere No non credo Non l'ha mai detto nessuno No non me l'ha mai detto nessuno All'inizio Sei stata presentata Dicendo In fondo Tu identifichi L'amore In una maniera Un po' diversa Ma come Un po' diversa Da come Appunto Chiedo Io identifico l'amore Perché accetti tranquillamente Che ti si dica una cosa Di questo genere Senza ribattere Mi piacciono le cose reali Le cose vere Non odio il conformismo E tutto quello che può essere Ipocrisia Insomma Mi piace parlare così Con la gente Delle cose esattamente come stanno D'accordo Però per esempio Nelle tue canzoni A un certo punto Tu cerchi di smitizzare Il ruolo dell'uomo Ma fino a che punto Credi di riuscirci? Ma io Non darei un'aria Così importante Così Alle mie canzoni In fondo Io mi limito a cantare Delle canzoni D'amore Che poi io Preferisco dei testi Più reali Più veri Ad altri Più melati Questo è un altro discorso Ma non Non voglio Cioè non mi interessa Fare della politica Femminismo Cose L'uomo Eccetera Nelle mie canzoni Voglio cantare e basta Cioè Darei una cosa Un po' più semplice Una veste più semplice Alle mie canzoni La signorina diceva appunto Due o tre volte Avevamo avuto questo riferimento Alla demitizzazione Dell'uomo Ma ecco Mentre mi pare Lei si meravigli Non si potrebbe fare Perché io non conosco Purtroppo le canzoni Qualche esempio Di questa smitizzazione Demitizzazione dell'uomo Per capire Beh sì Senz'altro Per esempio ricordo Amore, amore, un corno Cioè nel senso Amore, amore Amore, un corno È il titolo della canzone Cioè la storia di una donna Che a un certo punto Si rende conto Che è innamorata Diciamo di un tipaccio Però non lo vuole ammettere E ne è innamorata Però lo accetta E non vuole assolutamente Liberarsi da questo amore Ma questo corno Che vorrebbe dire Un corno per dire Un corno così Oppure è un corno del corno Amore, amore Un accidente Un accidente È così Amore, amore Amore, amore Amore, sì Per dire così Ma diciamo che io uso un po' Cioè le mie storie d'amore Sono, io credo, esattamente Uguali a quelle di Di quelle, le storie di mia madre O di mia nonna Soltanto che oggi i giovani Usano un altro linguaggio Cioè si spiegano in un altro modo In un modo molto più semplice Di prima Per cui io non mi limito soltanto A cantare nei termini In cui la gente parla oggi La gente della mia età Cioè pensa di essere un interprete Aderente del linguaggio attuale Del linguaggio attuale, esattamente Che è sintetico, breve e essenziale Sintetico, breve e essenziale Cioè non c'è però Nella sostanza allora Non ci sarebbe differenza Tra il modo di amare suo E quello di sua madre e sua nonna Ma non c'è nessuna differenza L'amore credo che sia uguale Per tutti i tempi Quando nasce Quando c'è però Quello che c'è intorno Cioè matrimoni Conformismi Tradizioni Riti Abitudini Consuetudini Certamente quelli cambiano Stanno cambiando anche molto Sua madre e sua padre Sono separati E lei che reazione ha avuto? Allora E lei quanti anni aveva? Io avevo 11 anni E come ha avvertito questo evento? Beh Non le so dire Cioè io penso di avvertire Molto più adesso La mancanza di mio padre Anziché allora Allora ero troppo Era troppo piccola E non mi rendevo conto Di tante cose Ma perché dice La mancanza di suo padre? Cioè lei nella separazione È rimasta sempre con sua madre E suo padre non è esistito più? Esattamente E questo perché? L'ha voluto lei? L'ha avuto suo padre? L'ha avuto sua madre? Ma lo abbiamo voluto tutti Cioè io ero molto piccola Però con questo Non voglio giustificarmi Dico che allora Mi è stata posta Questa scelta Davanti Io ho detto Voglio stare con mia madre Ma poteva andare anche Un po' di tempo Sarà andata Stare con lui Diciamo alternando No Non voleva andare A mio padre In che senso? Ah non voleva? No Cioè era un rifiuto Perché lui aveva rifiutato Sua madre? No veramente è stata mia madre Che ha rifiutato mio padre È probabile E allora lei si è Sì ma stiamo entrando No 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 Lei si è identificata Guardi è un problema molto vero Stiamo entrando forse Nella parte più vera Si è identificata con sua madre Insieme a sua madre Ha rifiutato suo padre Anche lei lo ha rifiutato Sì Cioè gli ha detto via Non gli ho detto via Mia madre ha detto via E io ho detto Vado con lei È giusto Ecco è giusto Perché l'ho ritenuto giusto? Perché non amavo stare con mio padre Mio padre era un uomo molto violento E c'era un'aria di terrore in casa Che mi soffocava Cioè non Picchiava sua madre? Sì anche Ma comunque Le metteva le corna? Non so Mi ricordo queste tavolate terribili La tradiva? No non la tradiva assolutamente Mio padre era molto innamorato di mia madre Era solo violenta? Ma era un amore strano Molto violento Molto possessivo Molto egoistico Mia madre in fondo Cioè la verità è che mia madre Non l'ha mai amato Non l'ha mai amato? No Cioè con la stessa Non erano in sincronia I due tipi di sentimento? Certo È così? Cioè mia madre ha capito Di aver sbagliato Il giorno che si è sposata Sì Ma era molto giovane Aveva 16 anni E viveva a Bagnara In questo paesino della Calabria Per cui Era la tragedia Cioè doveva scegliere O rimanere con suo marito O uccidersi Perché in effetti Era impossibile Continuare a vivere In quel modo Mia madre ha scelto mio padre Ha detto rimango con lui E lo sbaglio gravissimo È stato quello Di avere quattro figli Da lui Senta lei ha detto È molto amica Prima aveva detto Che era molto amica Di suo padre Ma questa amicizia È un po' teorica No io adesso Posso parlare con calma E serenità Di queste cose Che ormai sono passate Eccetera Io ho rivisto mio padre Dopo tanti tanti anni L'ho rincontrato Ci siamo incontrati Veramente Per la prima volta Quanto tempo ha fatto? 3-4 anni fa E l'ho visto molto cambiato Molto invecchiato Molto triste Anche perché è stato Sempre solo Durante questi anni E l'ha fatto un po' pena? Però abbiamo potuto Avere un colloquio L'ha fatto un po' pena? No non mi ha fatto pena Mi sono sentito Un po' in colpa In colpa Com'è la stessa cosa? Per averlo giudicato? Io non l'ho mai giudicato Per aver scelto Troppo comodamente Forse la via più comoda Che era quella di mia madre Perché avevo paura di lui Per tante cose Perché mi impediva Di fare quello che io volevo Non so Anzi Possiamo darsi del tu Perché quando si parla Di cose vere È più semplice Darsi del tu Hai rivisto criticamente La mia di quegli anni Che sceglieva Sì Ho capito Che non dovevo dare un giudizio Né su mia madre Né su mio padre Che in fondo Non ho nessun diritto Di giudicare Nessuno di due Perché gli sbagli Gli sono stati Tutte e due le parti Questo è un atteggiamento morale Razionale Però istintivamente Allora Lei ha detto no A suo padre Con sua madre Cioè voi due avete detto via Non con le parole Né con i gesti Ma nella sostanza Insomma A quest'uomo Secondo lei Nel suo rapporto reale Attuale con l'uomo Con gli uomini Questo tipo di rapporto Con la figura paterna Con suo padre Ha pesato e come? Cioè lei Pensa di essere stata condizionata Da questa esperienza? Senz'altro sì Però direi favorevolmente Cioè mi sono trovata Sola A dover A dover scegliere la mia strada A dover affrontare la mia vita Per cui ho fatto degli sbagli pazzeschi Ho avuto delle esperienze incredibili Questo sì Ma lei da che tipo di uomo è tratta? Da un uomo violento? O molto No assolutamente Cioè la violenza le dà fastidio? Mi dà fastidio La possessività non la sopporta? No La gelosia le è intollerabile? È intollerabile È chiaro Che differenza c'è tra vita privata E vita pubblica per te? A momento attuale Ti scoccia a raccontare queste cose? Io non so Non credo di avere una vita privata Una vita e basta Cioè vivo Quando canto Sono io Sono me stessa E quando sto da sola Con i miei amici Sono me stessa In lo stesso modo Cioè ti identifichi sempre Nella stessa persona? Certo Sbagli pazzeschi Quali? Un esempio Veloce Ma per esempio Quello della droga Ma con l'uomo? Con l'uomo no Non rinnego nessuna esperienza Che ho avuto con gli uomini Sono sempre stati Ho dei ricordi bellissimi Ricordi Quindi tutte cose un po' chiuse Cioè parentesi Che si sono aperte Si sono richiuse Certo Ha parlato della droga Velocissimamente E così Quasi quasi Fuggendo È un'esperienza risolta? Sì Cioè non è che Io ho voluto provare Così a fumare Perché Fumavano tutti Volevo provare anch'io È un po' una stupidaggine No Soprattutto è una Mi sono trovata Per tante cose A dover fumare Questa sigaretta E mi era rimasta Nella borsa Così andando In un locale In Sardegna È arrivata la polizia Che ha fatto perquisizione Eccetera Per cui mi hanno arrestato Mi hanno arrestato Con l'accusa di traffico E poi hanno scoperto Facendo indagini Che in effetti Non c'entrava niente Che era solo detenzione Per cui sono rimasta In carcere Per un po' di tempo Poi mi hanno liberato Purtroppo il tempo Credo che stringa Dobbiamo dare il pantografo Sì certo Allora c'è un pantografo C'è una matita Puoi scrivere la parola Che ti viene in mente Parola o frase breve La prima che è così a caso Collina? Eh ho letto bene Collina? Collina Ecco Collina Veloce Né montagna né pianura Ma io devo tirare le somme È una cosa naturalmente così Molto come dire È un gioco Un gioco su alcuni fondamenti seri Ma non vuole essere Il quadro completo Della sua personità Ma alcuni spunti Che si colgono Mi pare che dalla conversazione Che abbiamo avuto Sia chiaro Che il problema essenziale Di Mia Martini È quello del rapporto Con la figura paterna È un Il suo sguardo Leggermente ironico E leggermente mesto E leggermente Nostalgico E melanconico E dolce Mi sembra che esprima A me pare Che esprima un po' Questo rapporto profondo Con l'uomo Con la figura paterna Cioè un rapporto Di una cosa Che in fondo Totalmente Completamente Appagatamente Sinceramente Non si può mai avere Cioè voglio dire È come se ripetesse Un po' Questa esperienza Con la figura paterna Anche le canzoni Che io purtroppo Non conosco Non ricordo Di cui si è parlato E che parlano Di questi uomini Così Demitizzati O comunque Di questi uomini Che hanno quest'alone O di anomalie O di violenza O cose del genere Mi sembra Che siano un po' Quello che lei In fondo Da cui è attratta E nel tempo stesso Da cui fugge Cioè io ho l'impressione Insomma ecco questo Che la mia Martini Subisca un certo fascino Di un certo tipo Di personalità maschile E al tempo stesso La rifiuti Desideri integrare Profondamente La personalità dell'uomo Nella sua E nello stesso tempo Ne fugga E questo rappresenta Molto il mondo Di oggi Giovani di oggi Anche se io Non credo che La nostra generazione Quella mia e tua Enzo Sia così Poi separata Da un abisso Da quella dei giovani Perché in fondo Poi quando si ama Come diceva mia Martini Si ama sempre Allo stesso modo Nonni Padri E figli Però ecco Credo che sia un po' questo L'irraggiungibilità Di un elemento Che lei sente premere E urgere dentro di sé E che non trova Nella realtà Come nella realtà Non ha trovato Un padre Una sintesi armonica Tra il padre E la madre Quindi questo fascino Anche di una personalità Che è continuamente Alla ricerca di una cosa Che continuamente le sfugge Un po' come il mondo Poi di oggi Beh è difficile Chiusare con parole Che a una giovane Veramente del suo tempo Come mia Martini Non appaiono Rettoriche O sorpassate È stato un incontro Molto interessante Anzi vorrei dire Che forse Mia Martini diceva Il mio problema È parlare il linguaggio Del mio tempo Ma credo che Il disco Che non ha cantato Ma ha parlato Questa sera Sia stato forse Quello che avrà raggiunto A casa A domicilio Il più gran numero Di persone È stato un disco interessante Un disco autentico Un disco Ripeto Parlato Ma vissuto Nessun augurio Direi Se non quello Di ritrovare Continuando ovviamente A cercare Perché fa parte Del suo temperamento Quell'equilibrio E con l'aggiunta Quella felicità Nei limiti In cui Questa felicità Si può raggiungere Che le sta a cuore Grazie Allora